Ci sono dei lavori in queste case ATER ma in altre, come abbiamo visto anche in questo appartamento, la situazione è davvero molto complicata a Pignoli. Sì, io veramente rimango basito perché conosco la signora da tempo ma mai mi aveva descritto una situazione del genere. Questa è l'inciviltà, lo stato puro. Questo è il non abitare. Questa è la vergogna dell'ATER della regione Abruzzi e di Pescara. Un'abitazione, poi le vostre immagini parlano chiare, dove non si può vivere. Non si può vivere, per questo io già da domani scriverò al prefetto, al presidente della regione per trovare ovviamente delle soluzioni immediate e drastiche. Io veramente rimango senza parole perché una cosa del genere non mi è mai capitata nella vita di poter vederla. Eppure voi sapete che io la mia vita la spendo, la signora lo sa, occupandovi prevalentemente delle periferie. Ma una cosa del genere veramente a misura d'uomo, a memoria, non mi è mai capitata una cosa del genere. Rimango basito. Qui sarà mia premura nei prossimi giorni a avviare tutte le procedure immediate e urgenti perché poi, insomma, adesso ci sono le elezioni per cui tutti quanti corrono per cercare voti perché faccio io, presento io, risolverò io. Io questa cosa la devo risolvere e verificare immediatamente con l'ATER perché è una situazione che non può essere. Loro avevano dei debiti, la signora è rivolta da me, abbiamo fatto un piano di rientro con l'ATER, hanno pagato tutto per cui adesso sono l'ATER legittimata a intervenire e a risolvere il problema. Grazie a tutti.